Ho scoperto, tra virgolette, stamattina, proprio insieme a quest'altra mia amica carissima, che è un'autrice, che è Loriana Lana, che ha scritto due brani presenti nel tuo disco. Sì, nel mio cofanetto. Guarda, c'è una canzone di Bacchaloff musicale e lei ha fatto il testo. Un testo, tra l'altro, che è il più bel testo che io ho nel cofanetto. Ti ringrazio, perché io le voglio un grande bene e la stimo molto. E poi Pasquale ha mandato alla Commissione di Sanremo anche la canzone di Bacchaloff, ma loro hanno scelto quando ti sei innamorato, perché lei ci teneva molto di andare a Sanremo, anche per fare un omaggio a questo grande direttore d'orchestra, compositore che non c'è più. Sono d'accordo. E poi ho fatto un altro disco, un'altra canzone di Donati, che è bellissima. Sì, sì, certo. Siamo diversi, giusto? No, quella di Bacchaloff, siamo diversi, che è stupendo. Esatto. Sì, invece quella di Donati è come un elisir. Ecco, sì. Perché è bellissima. E io appena avrò l'occasione di sfogare con questa, diciamo, canzone di Sanremo, dopo riprenderò a pubblicizzare tutti gli altri brani dell'album. E prima di tutto sarà la canzone di Bacchaloff. Certo, sono molto felice, guarda, di questa cosa. Sono molto felice perché io le ho ascoltate entrambe in anteprima con Loriana. e quindi lei mi chiedeva a me, Adrian, cosa pensi, a chi posso farle sentire? Poi alla fin fine stamattina ho detto, ma Lori, scusami, ma tu sei nel disco di Orietta? Ah, io sono felicissima, Adrian, che ti accorgi sempre di queste cose. E insomma, alla fine sono molto felice che porti dietro questo disco perché hai inserito delle canzoni stupende all'interno sicuramente del cofanetto e quella che porti comunque a Sanremo ha comunque un andamento trionfale perché comunque gli autori del volo si sentono. Sì, sì. È una melodia tradizionale italiana del bel canto. E anche in questa canzone abbiamo dovuto fare un doppio arrangiamento nel senso che noi non pensavamo minimamente, quando l'abbiamo registrata quest'estate, di venire a Sanremo, no? Quindi abbiamo fatto un arrangiamento più intimo. E quando abbiamo saputo che venivamo a Sanremo il maestro dentro Campagnoli ha cambiato totalmente l'arrangiamento per utilizzare tutti gli elementi disponibili dell'orchestra di Sanremo. Certo, bello come lavoro. E quindi è diventato più plateale, no? Più da palcoscenico, più da rappresentazione. Sì, sì, è diventato molto più un inno, esatto, un inno anche per Rai 1 che è importante avere questi brani, insomma. No, sono molto contento. E così è stato.